Carissimi fratelli, nel congresso missionario imperiale nel 2006 abbiamo riconosciuto che siamo solo all'inizio di un cammino verso una rinnovata coscienza missionaria che può scaturire solo da una profonda passione per Gesù e per l'uomo, da una profonda e radicale esperienza di fede che è la grazia del Signore. Il capitolo generale del 2007 ha definito gli obiettivi gli orizzonti e gli scopi del set dettagliato generale per l'animazione missionaria SCAM durante il periodo 2007-2013. Voglio pertanto informare sul cammino percorso in questa direzione per passare il materiale a coloro che mi succederanno in questo incarico di servizio per la costruzione di un progetto che riguarda tutti noi, la missione, le missioni e l'ordine nei primi decenni anche per la castellazione di un hoo canzni e le newsletteri. Grazie alla prossima! convoff e revisione a cura di materiale di fortale